I ragazzi che ti danno tanto, con i quali ogni tanto si lotta, ma è una cosa stupenda. I ragazzi sono fantastici e ogni volta che usciano in campo con loro è veramente tanta roba, nel senso che sono veramente felicissimo e giocare con loro ogni volta è un'emozione nuova. Si prova una gioia immensa, è veramente una soddisfazione unica vedere questi ragazzi esibirsi in campo e la carica che ti danno è quella maggiore di quella che puoi dare tu a loro, è una cosa proprio indescrivibile. Grazie a tutti. Per noi è un divertimento, a prescindere da come va dalla partita, è l'importante giocare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.